Pierpaolo Pretelli finisce al centro delle polemiche. Nelle ultime settimane, Parpiglia sta portando avanti un'inchiesta con la quale intende far luce sul caso di Malika, la ragazza cacciata di casa perché omosessuale. In tanti sui social hanno promosso una raccolta fondi a suo favore, tra questi anche Giulia e Pierpaolo, i quali hanno invitato i fan a donare soldi per aiutare Malika. A distanza di un po' di tempo da quel caso, è venuto fuori che la ragazza con i soldi raccolti si sarebbe concessa qualche sfizio di troppo, tra cui una lussuosa automobile. Ad ammettere la verità è stata proprio Malika, al punto che Gabriele Parpiglia ha scelto di vederci chiaro in tutta questa vicenda, portando avanti un'inchiesta per arrivare alla verità dei fatti. Il giornalista, sui social, ha fatto sapere di aver interpellato anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, per chiedere loro un parere su quanto è emerso sul caso Malika. Ebbene, Giulia Salemi avrebbe accettato di rispondere alle domande del giornalista mentre Pretelli si sarebbe rifiutato, scatenando l'ira di Parpiglia, che sui social non ha perso occasione per criticarlo. Il cantante ci ha detto che è concentrato sul progetto musicale. Gravissima come risposta, ha sbottato Parpiglia. Lui ha fatto una figura di merda, a differenza della ragazza.